club marcone non è soltanto un club è una casa degli italiani in consiglio siamo più siamo 12 presidente due vice presidente nove direttore e siamo tutti italiani abbiamo portato tanto in australia la cultura mangiare l'arte un core la scherma football bocce che sarebbe uno dei primi primi giochi qui a club marcone no c'è una di tutto che l'italiano faceva in europa faceva in casa adesso è qui a club marcone